ciao a tutti mi chiamo alex riverani e sono un fotografo professionista mi occupo principalmente di fotografia di matrimonio ma anche soprattutto di street photography nella chiacchierata di questa mattina con i ragazzi di mollo cercato di fornire loro quanti più spunti possibili per renderli curiosi nelle loro quotidiane passeggiate nelle loro città quindi cercare di fornire gli spunti di interesse per vedere la quotidianità in maniera meno pigra e più curiosa ma soprattutto ho cercato di parlare di progettualità quindi andare oltre al singolo scatto cercare di costruire in strada dei lavori veri propri e soprattutto abbiamo parlato anche di prodotti cartacei quindi cercare di lasciare una traccia della propria esistenza e di trasformare in prodotto fisico e tangibile il proprio lavoro per cercare di creare quasi una connessione tra noi e i nostri follower oggi siamo portati a pensare che i nostri follower sono quelle persone che ci mettono mi piace su facebook piuttosto che su instagram invece possiamo cercare di creare una connessione quasi fisica e concreta appunto attraverso la produzione di lavori cartacei a loro rivolti ciao 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 Grazie a tutti.